E' attivo il piano neve per la provincia di Campobasso dopo il vertice del mese scorso del comitato operativo viabilità che fa capo alla prefettura di Campobasso. I dettagli nel servizio di Enrica Cefaratti. Il comitato operativo viabilità che fa capo alla prefettura di Campobasso si è riunito a novembre e il piano neve per la provincia di Campobasso è operativo. Rinnovato nelle sue parti è stato trasmesso a tutte le amministrazioni, corpi speciali e denti. La prefettura coordina con il supporto del COV i flussi informativi e adotta in caso di necessità il divieto di circolazione per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate e sulla viabilità ordinaria e convoca per necessità il CCS, ossia centro coordinamento soccorsi presso la sede della protezione civile. La protezione civile a sua volta fa attività di previsione attraverso il centro funzionale di aver centrato. Nel piano neve sono coinvolti soggetti diversi, questura, polizia stradale, carabinieri, finanza, vigili del fuoco, corpo di polizia penitenziaria, ANAS, provincia, comune di Campobasso e Termoli e consorzi industriali che agiscono ognuno per propria competenza. I gradi di criticità seguono una griglia di colore bianco, verde, giallo 1, giallo 2, rosso, nero 1 e nero 2.